Riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica preseduta dal prefetto Donato Cafania per garantire le misure di sicurezza per i cittadini e per i turisti per questa estate 2018. All'incontro hanno preso parte i sindaci, i vertici provinciali delle forze dell'Ordine, del Comando dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e del Servizio 118. Sono stati esaminati tutte quelle attività di controllo del territorio, anche i servizi integrati, tra forze dell'Ordine e polizie locali con l'attivazione di una stazione stagionale a Castellaneta Marina, per quel che riguarda i carabinieri, ed una stazione mobile a San Pietro in Bevania, nel territorio di Manduria. Saranno promossi incontri presso i commissariati di Polizia di Stato per pianificare nei diversi ambiti servizi specifici per rafforzare l'azione di prevenzione e controllo del territorio. L'operazione Mare Sicuro, poi, da parte della Capitaneria di Porto, che amplia i servizi a garanzia dei bagnanti, ma anche la vigilanza della navigazione. In impegno è stato chiesto all'amministrazione comunale, a quelle presenti e non solo di tutta la provincia di Taranto, per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, in accordo con la Guardia di Finanza e il nucleo antisofisticazione dei carabinieri. Per quel che riguarda il flusso veicolare, l'osservatorio prefettizio sulla sicurezza stradale terrà dei sopralluoghi congiunti con gli enti proprietari delle strade e di comuni interessati per individuare le misure necessarie ed urgenti in attesa degli auspicati interventi infrastrutturali. La tutela del patrimonio naturalistico e boschivo, invece, è oggetto della campagna antincendio promossa dalla Prefettura Aiutaci a difendere la bellezza. Questo il pensiero da parte del prefetto di Taranto Donato, Cafagna. Con l'estate 2018 vogliamo mettere in campo un sistema di sicurezza integrato che parte da un'analisi puntuale dei fattori di criticità di ciascuna area, si avvale di uno scambio informativo costante con i sindaci e rafforza un impegno coordinato delle risorse che valorizza la specificità e viene incontro con moduli flessibili e le diverse esigenze di sicurezza del territorio e dei cittadini. Grazie Grazie